Il bel mare di Livorno come scenario si parla sempre di mare, punto di indirizzo prioritario per il Propeller Club che si appresta al secondo anno di mandato del presidente Gloria Gianni, tra progetti nel cassetto da avviare e progettualità ancora da portare a compimento e già iniziate. Esatto, inizia stasera il secondo mandato 2015-2016, nostra Assemblea Nazionale. Nei progetti dimenticati che invece riprendiamo proprio stasera, la Port Community System e il Single Window ovvero sia l'informatizzazione e l'innovazione dei porti, stasera con noi un gruppo di imprenditori che molto probabilmente si aggiudicherà tra l'altro la gara per questo servizio che offre con l'autorità portuale di Livorno. Abbiamo nel cassetto ancora incontri a breve, l'anno che si è concluso è stato un anno importante perché ci siamo dedicati al territorio, Livorno, l'area vasta, il nuovo piano regolatore portuale, l'aeroporto di Pisa e quindi abbiamo completato il territorio. Vogliamo cercare di rilanciare, anche se il Propeller è da molti anni al servizio del cluster marittimo, in ogni caso vorremmo vedere di ampliare anche un po' oltre gli orizzonti. Comunque la Direzione Generale delle Dogane di nuovo verrà e ci parlerà delle innovazioni, delle prospettive. Abbiamo un incontro forse con Vincenzo Norato a breve termine, con il Consiglio regionale abbiamo preso contatti sia con il consigliere che si occupa di area vasta che con il nostro consigliere locale Francesco Gazzetti per parlare di che cosa sta succedendo su questo punto di litorale della costa livornese. In ogni caso la nostra è una proiezione che deve guardare avanti. A fine ottobre ci sarà la convention nazionale in Expo. Sono stati dei giorni importanti del Propeller anche proprio la settimana scorsa durante la Genoa Shipping Week perché comunque come Propeller eravamo presenti insieme alle Capitanie di Porto per i 150 anni e abbiamo fatto da hosting. Vediamo se questa città risponde e ha voglia un po' di reagire. Grazie. Grazie.